Dai, andiamo avanti, allora, con il numero 3, 1, 0, 7, 4, loro sono Vladlena e Umberto, hanno 44 anni e 15 anni, arrivano da San Valentino Torio, proprio San Valentino, la città del dinamore, esatto, dove nasce questa è Patronolo, e ci presentano una performance con uno show latino, prego! Andiamo in casa, Giulio, è stato Herausi a Anziani, un Paese paese, io ero un Paese paese, io ero un Paese, io ero un Paese paese, io ero un Paese, io ero un Paese, io ero un Paese paese! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti